L'identità e l'impegno del medico non si basano solo sulla sua conoscenza ed esperienza, ma soprattutto nel suo atteggiamento compassionevole e misericordioso verso coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, perché solo con la dedizione e la professionalità verso i malati i medici possono diventare la vera personificazione della misericordia. Con queste parole Papa Francesco ha salutato in spagnolo i dirigenti degli Ordini dei Medici di Spagna e America Latina riuniti nella Sala Clementina in Vaticano, ai quali il Pontefice ha ricordato l'importanza della compassione che non umilia chi la riceve, ma lo consola. Il dolore e la malattia sono una dura prova anche per la coscienza dei medici, ha proseguito Papa Francesco, che però devono preservare la dignità della loro professione evitando soluzioni drastiche mascherate da falsa pietà. La vera compassione non è marginare o escludere nessuno, ha detto ancora il Pontefice, è invece la risposta appropriata al valore della vita del malato fatta di comprensione, tenerezza e rispetto. Grazie. 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 Grazie.